Ieri mattina presso l'Istituto Comprensivo Giacinto Romano di Eboli è stato inaugurato un montascale con pedana per consentire alle persone con ridotta mobilità o in carrozzina di superare scale e dislivelli in piena sicurezza e comfort. L'iniziativa è stata realizzata alla presenza del dirigente scolastico Elisa Scatteretico, delle docenti e degli alunni, insieme con l'assessore alle politiche e sociali Carmine Busillo e al disability manager del comune generoso Di Benedetto. La struttura non è un caso isolato, ricorda il sindaco di Eboli Massimo Cariello. Lunedì scorso, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, nella palestra dell'Istituto Comprensivo Generale Gonzaga, abbiamo presentato la nuova accessibilità alla palestra e l'esperienza del busking, uno sport inclusivo. L'attenzione per i temi sociali è una delle priorità della nostra azione amministrativa.